Prova a correre ai ripari il Catani aggrappandosi disperatamente al mercato di riparazione, squadra inconsistente, fisicamente a terra e moralmente distrutta. Inoltre a Lanciano abbiamo avvertito una strana sensazione, sembra proprio che alcuni giocatori argentini non abbiano più voglia di giocare in rosso-azzurro, inutile fare l'elenco, basta rivedere la partita per individuarli. Insomma il 3-0 di Lanciano è la cartina torna sole di una squadra che evidentemente non ha un problema soltanto di guida tecnica, dunque non è solo un problema di allenatore nonostante il terzo cambio in stagione, forse nemmeno Morigno potrebbe ribaltare una situazione così disastrosa. Il momento dunque è assai delicato in casa rosso-azzurra, la classifica peraltro ha decretato un chiaro concetto, l'obiettivo del Catania è la salvezza. Impensabile ad inizio stagione, è vero, ma la realtà è questa. Momento delicato, dicevamo, dove tutte le decisioni, per volere del presidente Polvirenti, sono prese dai responsabili, Pablo Cosentino, Diego Canigia e Daniele Dellicarri. L'amministratore delegato Cosentino continua dunque a dettare le linee di mercato in entrata e in uscita. Oggi a Torre del Grifo è arrivato il difensore Schiavi, classe 86, proveniente dal Frosinone. Tra breve toccherà a Daniele Schaudone vestire il rosso-azzurro, centrocampista 26enne in forza al Bari, giocatore che prevalentemente agisce davanti alla difesa. Si attende anche la firma del difensore Luca Ceccarelli, classe S83, di proprietà dello Spezia, mentre per il portiere Gillet siamo praticamente ai dettagli, anche lui a proda in rosso-azzurro. Più complicato il mercato in uscita, nessuna richiesta per Almiron e Monzon, quasi certo l'addio a Spolli, in questa stagione irriconoscibile rispetto al giocatore Gagliardo e sicuro di qualche anno addietro. Valigie in mano anche per Peruzzi, destinazione argentina, e per il portiere Frison, cui non mancano le richieste. Anche Lucas Castro non rientra più nei programmi della società, probabile a breve il suo addio forse in prestito. In questo quadro generale il tecnico Marco Lin deve gestire al meglio una rosa con il morale sotto i tacchi, che non sappiamo come, venerdì sera alle 20.30 al Massimino, dovrà tirare fuori le unghia contro la Provercelli nel bel mezzo della protesta dei tifosi rosso-azzurri, delusi, arrabbiati e senza speranza.